Padovano è tutto pronto per la festa di Sant'Andrea, i fuochi ci saranno ma solo al mattino? Solo al mattino perché purtroppo il covid, gli assembramenti, avete visto anche il decreto che è uscito ieri, quindi non è che questo decreto ci dice liberi tutti. La messa della domenica mattina seguirà con la deposizione delle corone in mare di quattro motopescherecci. All'imboccatura del molo ci sarà il rientro del santo, è una tradizione culturale nonché religiosa, radicata ormai da 60 anni e quindi quei 10 minuti per dire la città è rientrata il santo, punto. Certo, lo spettacolo pirotecnico non si ripete nemmeno quest'anno, comunque la domenica ci sta la messa, poi ci sarà il lunedì un'attività conduccio davanti alla chiesa. In particolare la questura di Pescara, nonché la dottoressa Vizioli che ci è stata molto vicino in questo momento particolare, il prefetto di Pescara, il comandante della cabine di porto di Pescara, il colonnello dei carabinieri, il colonnello della guardia di finanza e tutte le autorità politiche, civili e militari. Padovano, da Presidente di Conf Commercio di Pescara, grande supporto sul piano organizzativo, però dobbiamo fare il solito appello al senso di responsabilità. Questo lo dobbiamo fare, abbiamo sentito anche le parole del Presidente Draghi ieri sera durante la conferenza stampa, se non ci assumiamo il senso di responsabilità, noi rischiamo di non mettere fine a questa pandemia. Aspettiamo che ci vacciniamo tutti per affrontare un autunno più sereno, dico più sereno ma non tranquillo, più sereno, perché l'anno 2022 possa essere l'anno della ripresa. I dati ce lo dicono, la Banca d'Italia ha detto che ci sarà un PIL più 4.5. Rivolgo un appello forte agli uomini che rappresentano la comunità, gli uomini politici e gli amministratori. Bene, noi stiamo facendo la nostra parte, anche voi mettetevi al lavoro perché ne abbiamo veramente bisogno. Non ci date le fregature con la scusa della burocrazia perché stavolta stiamo veramente ingazzati.